Sono Dino Paternostro, cittadino corleonese. Mone c'è parrile, se diciamo in se stocca ci rire. Significa che nella cultura popolare c'è stato sempre così, un rispetto per la Chiesa, per le funzioni di cui religiose, per cui il popolo non metteva in discussione il fatto che bisogna andare a messa e quindi partecipare a quelle funzioni. Metteva in discussione invece la linearità, la coerenza di chi amministrava il culto, cioè dei sacerdoti e dei monaci. Per cui l'inmito era, la considerazione era, i monaci è parrile, senta a messa, quindi partecipa alla messa, però poi evidentemente rompici la schiena. No, perché loro sul piano personale non sono credibili.